Poi era per Vedi Basket di Alessandro Giuntoli, Simone Pieri, Simone, una grande battaglia alla vicina, si era detto, i primi allenatori avevano progettato l'acqua sul fuoco che questa forza era la vera finale di Degadue e questa partita insomma l'ha dimostrato. La squadra è decisa secondo me dall'episodio alla fine della nostra non concentrazione perché il campionato dei palloni non avevano avuto appunto questa nuova fine è molto importante. Quindi sono queste partite che si decidono con queste situazioni, non sono stati più bravi e la prossima volta non sono stati concentrati. Ovviamente come sempre si suol dire quando si va a giocare le prime due gare in trasferta l'importante è portarne una a casa e poi tra 48 ore sarete di nuovo qui e ovviamente cercherete di migliorare da dove avete sbagliato e riuscire a espugnare questo fortino che è Pistoia. Esatto, è un campaccio da espugnare, noi ci proveremo, abbiamo capito anche oggi che ce lo possiamo fare. Grazie a tutti per la sua offerta appunto, ci siamo molto contenti e ci siamo molto contenti, ci siamo molto contenti. Grazie a tutti. Grazie Simone Bocanupo per il big basket da San Zucco.